sapete qual è la cosa che mi sta preoccupando di più è che ultimamente sto facendo degli sfoghi sulle prestazioni, non sui risultati perché comunque 4 a 2 non è un risultato negativo non ti blinda la qualificazione però diciamo che dovrebbe succedere qualcosa di strano dovresti perdere con 3 gol di scarto per essere eliminato, con 2 gol di scarto per andare a esupplementare quindi comunque è un risultato che ti fa stare abbastanza tranquillo ma non tranquillissimo quindi da quel punto di vista alcuni hanno scritto sì vabbè il risultato è buono a me interessa solo il risultato c'è gente che non ha manco guardato la partita ha visto il risultato e ha detto va bene però ieri ero molto arrabbiato e la cosa che mi sta preoccupando di più che di solito negli anni passati quando succedevano queste cose perché io sono sempre uguale io analizzo le partite sempre nella stessa maniera se vedo che la squadra mi fa schifo anche se vince sarò qui a criticarla e l'ho sempre fatto ma il 50-60% a volte delle persone mi dicevano che ero esagerato che ero troppo negativo che dovevo fare lo sfogo per forza adesso invece si è ribaltata un po' la situazione vedo che la gente mi dà ragione più del 70-80% sotto il video mi danno ragione e questa è una cosa che mi preoccupa ancora di più perché vuol dire che allora non sono io che sono un negativo sono un pessimista vedo tutto male ma lo stanno vedendo anche gli altri e questa è una roba che mi preoccupa veramente tanto quindi lasciami un like in questo momento se comunque tu dalla partita di ieri non ne sei uscito felice ne sei uscito abbastanza preoccupato e se sei contento di quello che hai visto ieri non devo lasciare il like non lo voglio da te il like voglio il like da chi ieri non era contento perché voglio capire in quanti siamo perché secondo me siamo tanti ragazzi siamo più di quelli che guardano il video cioè almeno l'80% ieri ho visto sotto i commenti poi magari uno non commenta perché non è che tutti commentano il video lo guardano 30.000 persone commentano in 300 quindi non è che tutti commentano però magari un commentino lasciatemi perché voglio sapere la vostra e in più ragazzi con un like supporterete anche la serie delle pagelle iscrizione al canale se ancora non l'avete fatta e sotto nei commenti scrivetemi il vostro migliore e peggio in campo se volete fatemi tutta la lista me la guardo sempre molto volentieri allora partiamo dal nostro super portierone che tanto super ultimamente non è Magic Mike Magnan voto 5.500 perché ragazzi sì ok quello fa l'Eurogoal della vita ma lì Magnan quella là te la para con la minchia quella palla cioè stiamo scherzando Magnan cioè se ti devi definire tra i portieri più forti del mondo io Magnan l'ho messo sempre nella top 5 qualcuno mi ha anche insultato per averlo messo nella top 5 ma io confermo a dire che le sue qualità sono da top 5 mondiale come portiere quello non lo prendi quel gol mi dispiace Magnan ma quel gol non lo prendi sul secondo anche lì qualcosina c'è capito non è che dici sono errori magari ha fatto la paperata no ma non ha fatto il super portiere è quello che dico sempre se una prestazione decente me la fa un giocatore mediocre sicuramente si becca un voto in più se la prestazione decente me la fa un grandissimo campione e allora quel punto in più non se lo prende perché sono molto più severo più sono forti più sono severo nei voti magari ieri ci fosse stata Tata Rosano in porta gli avrei dato 6 a Magnan li do 5.500 perché mi deve fare il Magnan spero sia chiaro il discorso non sto dicendo che ha fatto degli errori che i gol erano facili da parare però non ha fatto il Magnan e non va bene per me non va bene difesa Simon Kier voto 5 sbaglia tutto compa tutto è una difficoltà disumana e non è l'unica partita e lo vedo ultimamente fisicamente non ce la fa più a stare dietro a nessuno è arrivato il momento ha tirato la carretta e dobbiamo soltanto che dire grazie a Simon Kier perché veramente ha giocato quando non c'era più nessuno in difesa ma basta siamo arrivati al capolinea adesso stanno rientrando piano piano è rientrato Ciao è rientrato Tomori stanno rientrando tutti Kier grazie di tutto quando ci servirai ti chiameremo e potrai entrare in campo ma basta perché siamo arrivati alla fine non ce la fa più cioè quindi e invece di vedere queste prestazioni indecenti perché non se lo merita neanche lui perché giustamente non ce la fa fisicamente evitiamo evitiamo perché poi mi dovete far bestemmiare contro un uomo che rispetto e stimo quindi per favore Gabbia ieri è andato in difficoltà anche lui gli do 5 e mezzo e credo forse sia la prima insufficienza che prende Gabbia da quando è tornato perché Gabbia era stato perfetto non è mai sceso sotto il 7 ultimamente era sempre tra i migliori in campo ieri ha ballato anche lui come ha ballato tutta la difesa c'era proprio un problema di posizionamento ieri non ha funzionato niente lì dietro infatti la partita è stata disastrosa dal punto di vista difensivo cioè abbiamo preso due gol ma abbiamo anche rischiato abbiamo rischiato di regalare occasioni agli avversari eravamo sempre fuori posizione ripartivano e c'era magari Gabbia che stava lì a centrocampo ripeto sempre da dividere le colpe con l'allenatore perché è l'allenatore che muove le pedine e loro vanno in difficoltà assurda e ieri Kier e Gabbia che ultimamente ripeto Gabbia era sempre stato uno dei migliori Kier stava portando sempre la pagnotta a casa sono andati in difficoltà 11 contro 10 contro lo Slavia Praga per non parlare dei primi la prima mezz'ora in cui hanno giocato soltanto quelli dello Slavia Praga Florenzi voto 6 e mezzo la luce lì dietro in quella difesa un po' barbina ieri due assist per lui finalmente qualcuno che batte bene i calci d'angolo sui calci di punizione non ci siamo voleva fare un gol alla Maradona con tiro ad effetto a Palombella una roba esagerata Florenzi qualcosa di un po' più semplice però è un giocatore che dà sempre spinta quando sta per mettere un cross in mezzo non stai lì a farti il segno della croce perché ha un buon piede dal punto di vista difensivo sì anche lui un po' ha sofferto perché ieri dietro hanno ballato tutti cioè proprio la nostra difesa era tipo ballerina sembrava una serata di salsa e latino però dal punto di vista offensivo è stato determinante quindi bravo spizzingrillo Florenzi Teo Hernandez voto 5 e mezzo 5 e mezzo perché stava facendo una prestazione decente come ho detto prima e già non è che mi espongo tanto stava sulla sufficienza risicata ma poi sul secondo gol lì ragazzi si perde completamente l'uomo do cazzo stava guardando ma proprio ma che si era smaterializzato l'avversario cioè non l'ha visto proprio un errore grave gravissimo che ci poteva costare caro poi alla fine vabbè finita 4 a 2 però ragazzi lì sul 3 a 2 veramente c'era da cagarsi in mano e l'errore è troppo grave gli do mezzo voto in meno perché il voto per Teo per la prestazione sarebbe stato da 6 quindi voglio essere anche gentile perché potevo essere anche più cattivo e togliere un punto per quell'errore però visto che poi alla fine comunque siamo ritornati avanti di due lunghezze va bene così soltanto mezzo punto però la difesa possiamo dire che ha giocato male e ovviamente prendi due gol in 10 contro lo Slavia Praga voglio vedere chi riesce a parlare bene ieri della difesa del Milan passiamo adesso al centrocampo Yassin Adli 5 e mezzo lui si accoda un po' al discorso della difesa ieri ha sofferto in una maniera assurda il ritmo del centrocampo dello Slavia Praga che bisogna dirlo questi erano indemoniati correvano da tutte le parti non si fermavano un secondo va fatto un applauso allo Slavia Praga perché comunque loro giocavano la partita veramente della vita non gli ricapitano più queste partite e ieri correvano un botto e Adli con i suoi ritmi in queste partite non può giocarci non può non sono partite che fanno per lui o sveltisce un po' la manovra oppure non può giocare queste partite può giocare quando l'avversario magari si chiude quando l'avversario magari sta lì dietro e tu puoi iniziare a girare palla puoi cercare l'imbucata giusta ma quando l'avversario gioca così e ragazzi la prima mezz'ora ci hanno fatto ballare la rumba e Adli soffre tantissimo è un giocatore che ha una tecnica incredibile è un giocatore che ha un carisma anche in campo lo vedi che ci mette grinta mi piace tantissimo quello che mette Adli in campo è uno di quelli che rispetto sempre di più anche in un 5 e mezzo anche in una serata secondo me negativa Adli comunque ieri io gli avrei stretto la mano perché uno di quelli che ci ha messo più impegno è un giocatore che non lo fa mancare mai per questo Adli avrà sempre il mio rispetto avrà sempre parole positive anche quando gli do un'insufficienza perché a differenza di un altro giocatore che magari gli do l'insufficienza perché non si impegna perché non aveva voglia ieri di stare in campo Adli la voglia ce l'ha sempre per questo merita sempre rispetto da me Tiziani Reinders voto 7 secondo me il migliore in campo a parte il gol bellissimo e risponde a un po' di critiche su quel non sa tirare da fuori area ha fatto un bellissimo gol da fuori area e secondo me può fare tanti gol Reinders io ho detto all'inizio dell'anno sembrava tutto bello e perfetto con queste due mezzali che si inserivano l'off to cheek e Reinders ho detto questi vanno entrambi in doppia cifra se tutto va bene così non è ce li hanno i gol però l'off to cheek e Reinders e lo stanno dimostrando e ieri Reinders era presente in tutto il campo ieri vi sfido a cercare di capire quale fosse il ruolo di Reinders perché era ovunque stava a destra stava a sinistra veniva dietro a prendere la palla era sempre lì nel ruolo di trequartista dietro la punta stava praticamente ovunque il solito Reinders che è il giocatore incredibile e che io adoro follemente l'off to cheek voto 6 più perché anche lui gran bel gol alla l'off to cheek va in cornare di testa bellissimo però non basta solo quello Reinders l'ho visto più nel vivo della partita l'off to cheek si accendeva a intermittenza ogni tanto si accendeva ogni tanto spariva completamente dal campo e un giocatore con la sua presenza questo non deve succedere però sicuramente una prestazione convincente e un gol importantissimo e i gol di l'off to cheek ci servono tantissimo Pulisic voto 6 e mezzo mi è piaciuto tanto perché è accorso 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 e accorso si ragazzi Cristian Pulisic ieri accorso tralasciato il fatto che gli ha inculato il gol a Leao e vabbè dettagli lì non mi sento neanche di dare la colpa perché non sai mai se c'è un difensore dietro che può salvarla non è stato proprio quel gol rubato perché io lo volevo rubare diciamo che ha voluto la certezza del gol meno male non ci stava fuori gioco però ieri ha fatto una partita incredibile ieri era ovunque quell'uomo era veramente se dico qualcuno che ci teneva la partita di ieri ieri era Cristian Pulisic ieri ci teneva se lì in attacco non gliene stava sbattendo niente a nessuno cioè del tipo non passateci la palla per favore Pulisic era quello che veniva incontro a prendersi la palla era quello che si allargava era quello che cambiava la fascia era quello che si metteva lì dietro la punta si è messa a volte anche a fare il falso 9 quando Giroud tornava indietro gli faceva il taglio da dietro a corso perché ieri quelli dello Slavia Praga correvano e lui non ha mollato un centimetro quindi bravo 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 Cristian Pulisic che ripeto un giocatore con quella qualità potrebbe anche non permettersi tutta quella corsa tutto quel rincorrere avversario e invece lui lo fa e mi piace tantissimo per molte cose mi ricorda molto Brian Diaz che aveva quel tipo di gioco che riusciva a mischiare tecnica e andare a rincorrere gli avversari quindi bravissimo Cristian Pulisic Leao è ovvio che Leao è sempre il voto più atteso da parte di tutti quanti gli do un 6 meno perché comunque ha fatto un assist e ha fatto diciamo un gol perché quello alla fine è un gol suo anche se Pulisic alla fine glielo è in cura però ho visto molte testate giornalistiche andare sul 7 ho visto addirittura dei 7 e mezzo onestamente per la mia onestà intellettuale non posso dare più di un 6 meno perché per me la prestazione di Leao è stata insufficiente poi riesci a risolverti la partita con quel gol finale ti dà quel quarto gol che ti dà una tranquillità maggiore e quindi va bene li tolgo anche il meno gli do un 6 pieno perché comunque è stato decisivo alla fine nel tabellino perché l'assist è stato bello per Giroud il gol è stato bello quindi per ora io non sono soddisfatto non sono per nulla soddisfatto non mi riterrò mai soddisfatto di queste prestazioni di Leao non mi aspetto che Leao faccia un gol ogni tre mesi e poi faccia e non me ne frega niente a me cioè quando la gente mi dice sì ma senza Leao il Milan che avrebbe fatto niente perché il Milan senza Leao non esiste cioè non è che sono uno di quelli che dice Leao devi sbattere in panchina o Leao lo devi vendere no non sia mai non c'è mai questo nei miei pensieri nei miei pensieri cioè perché questo ragazzo non riesce a dare il 100% è su questo che ci dobbiamo interrogare è su questo che bisogna lavorare non pensare che Leao è scarso e se ne deve andare via perché Leao non è scarso Leao l'abbiamo visto è un giocatore che da solo può vincerti la partita bisogna capire perché nell'arco dei 90 minuti è un giocatore che sembra non aver voglia di giocare a calcio e questo lo può fare solo una persona è l'allenatore che lo deve stimolare durante la settimana e i compagni stessi basta cullarlo sempre basta difenderlo sempre basta far finta che Leao stia facendo una super stagione perché vedo anche questa narrazione nei milanisti che Leao ha con i numeri comunque non sta andando malissimo Leao sparisce dal campo ragazzi Leao ciondola nel campo non è possibile vedere queste prestazioni cioè se ieri non si inventa quell'azione finale cioè Leao cosa ha dato a questa partita un cross un cross cioè questo vale Leao un cross per Giroud eh no ragazzi io non sono non sarò mai soddisfatto di queste prestazioni di Leao mi dispiace poi la sufficienza se la prende la sufficienza se la prende ma dalle sette e mezzo ma di che ma di che ma che cazzo di partita avete visto ma seriamente Giroud a lui glielo do il meno sei meno perché comunque uno non è tanta colpa sua cioè ha fatto un bel gol perché comunque il gol alla Giroud l'ha fatto ed è importante ha sbloccato e tutto quanto ok però poi basta non c'è nient'altro lì in avanti non si attaccava mai era sempre lì da solo lì isolato non è una prestazione cioè non posso neanche dare tutta la colpa a Giroud perché Giroud non è quel classico giocatore che può venire prendere le palla dribblare fare costruire l'azione non è non è un bappé non è quell'attaccante così che può giocare in quel modo Giroud è un attaccante che tu gli devi servire il pallone lo devi lo devi mettere davanti alla porta e infatti quando gli è stato servito un pallone davanti alla porta lui te l'ha buttato dentro quindi diciamo che non ha tante colpe nelle prestazioni di Giroud perché Giroud è quello chi si aspetta di vedere Giroud giocare in maniera diversa e no è quello il giocatore non puoi fare di più passiamo adesso ai subentrati Calabria voto 5 e mezzo entra già in difficoltà prima ancora di entrare in campo già nel riscaldamento già stava soffrendo gli avversari non so come faccia quest'uomo cioè riesce a entrare e a rovinare completamente tutto non lo so come fa cioè almeno diciamo entri e non dai nell'occhio ad esempio Tomori gli ho dato 6 perché è entrato non ha fatto niente non ha strafato sta recuperando la forma piano piano quindi non va a strafare quindi non lo noti neanche la sua prestazione lui no lui lo devi notare prima ancora di entrare già stava sbagliando quindi Calabria 5 e mezzo Tomori 6 ripeto bene minuti nelle gambe per Tomori bene figaio ritorna al più presto perché ci servi veramente tantissimo e poi do il voto a Jovic gli do un 6 perché comunque è entrato ha cercato di dare una mano non è stato decisivo diciamo eravamo a un certo punto talmente tanto offensivi che non si capivano manco i ruoli Jovic per trovare una posizione doveva tornare a centrocampo poi si è sistemata un po' la squadra ha sfiorato un gol un bel gol stava per fare peccato la palla è uscita veramente di nulla con quel raso terra però vabbè ha dato il suo contributo Pioli mister Pioli vince 4 a 2 voto 5 5 e non mi rompete le palle perché non puoi dare la sufficienza a quella prestazione del Milan non puoi dare la presenò io accendo i risultati guardo diretta accendo diretta.it pom vede i risultati e dico ah abbiamo vinto ok Pioli bravo no io devo giudicare quello che vedo e quello che vedo ieri è un disastro un disastro i primi 30 minuti messi sotto nel gioco dallo Slavia a Praga in casa nostra tu ti sei fatto mettere sotto tu devi ringraziare Dio che quello è stato espulso è iniziato a giochicchiare un po' a giochicchiare perché poi non c'era movimento non c'era niente siamo passati in vantaggio e dopo pochi secondi prendiamo il pareggio va bene facciamo due gol che avrebbe steso qualunque avversario e nel secondo tempo invece di entrare noi carichi a chiudere la qualificazione per non dover poi andare a dire adesso c'è la partita di ritorno con lo Slavia a Praga eh però adesso abbiamo il campionato facciamo no doveva essere chiusa la qualificazione tu sul 3 a 1 con due gol fatti nel finale del primo tempo con gli avversari in 10 quindi moralmente distrutti tu dovevi entrare in campo dovevi spazzare via lo Slavia a Praga vincere 5-6 a 1 era il minimo indispensabile tu la partita di ritorno non dovevi neanche più parlare dovevamo andare a fare turn over nel ritorno turn over e invece no adesso ce la dobbiamo andare a giocare perché non sai mai prendi un gol boom l'entusiasmo la cosa succede come in Francia dobbiamo passare 90 minuti di inferno contro squadrette squadrette perché non stai facendo nulla stai giocando contro squadrette Ren Slavia Praga squadrette cercano di prendermi per il culo facendole passare per grandi squadre squadrette misere non ce la giochiamo con le squadrette non riusciamo a chiudere le qualificazioni vinciamo 3-1 e basta non attacchiamo più non facciamo più niente le lasciamo addirittura a volte il pallino del gioco a loro che quelli non volevano altro che far fischiare la fine della partita gli regaliamo un gol messi a capocchia di cane in difesa la difesa che balla in una maniera assurda e non c'è mai quella convinzione nell'andare a segnare non la vedi mai la convinzione nel fare gol non vedi mai una squadra a un certo punto inizi a mettere attaccanti cose che confonda ancora di più la squadra quello fa capire quanto tatticamente sia scarso come allenatore perché non puoi andare lì a buttare giocatori in aria a ingolfare ancora di più quella zona e il gol ti arriva perché le ha un po' dal nulla se lo inventa perché sennò tu non segni tu non segni ieri non c'è stata un'azione non c'è stata un'idea di gioco non c'era c'era gabbia che passava la palla a Kierke Kierke che passava la palla a Gabbia Gabbia che passava la palla a Dli e a Dli che tornava indietro e la passava a Magnan Magnan ripassava a Gabbia questo era il tuo modo di giocare a pallone invece di dire oh schiacciamo ste merda cancelliamo la parola partita di ritorno in questo match a me sembrava la squadra a volte che stava giocando contro l'allenatore io ho questa sensazione sempre forza mina like iscrizione bella a grazie a tutti